Emanuele e Samuel che ne pensi della dpg etici frate no ma non puoi capire sono fantastici ai do you like it ok perfetto no ma il livello di fanatismo è rischioso è il mio livello di fanatismo a sé sì 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 mi sento impersonificato lancia un fit con la dpg ma ci stavamo parlando ah ok cioè nel senso potrebbe succedere ma ma dille le cose vai ma no perché quando escono però diciamo che dice le cose prima questo è vero giusto però potrebbe essere c'è la possibilità spero